Settima giornata del campionato di Serie D regionale, in cui Roccaraino la basket va in scena fuori casa contro Kurti. Dopo l'ultima vittoria contro Marigliano, il team di coach Liquori cerca il Tris, ma deve fare i conti con una squadra che davanti al suo pubblico è sempre molto difficile da affrontare. Il match parte in maniera equilibrata, con entrambe le squadre che si alternano i canestri. Pace con una tripla e poi Falco con un bel inserimento portano avanti Rocca, che però subisce tre tiri dalla lunetta, che permettono ai padroni di casa di portarsi a meno uno. A quattro minuti dal termine del primo quarto Rocca allunga e va sul 19-14, grazie ai colpi di pace del basso. Kurti però non ci sta e il numero 14 locale piazza un bel tiro da tre che manda le due squadre in parità, ma negli ultimi secondi disponibili del basso fa centro e il primo quarto termina 21-19. Il secondo quarto comincia seguendo l'andamento del primo, due squadre che giocano a viso aperto e colpo su colpo. Esposito realizza un tiro dalla lunetta. Rocca riesce a gestire il parziale nonostante i tentativi di Kurti. A metà quarto siamo sul 31-23. Il coach dei padroni di casa chiama timeout per dare una strigliata ai suoi, in molta difficoltà in questa fase. Falco guadagna e realizza uno dei due tiri liberi ottenuti. Un'incursione di Esposito comporta un altro fallo di Kurti, il numero 11 dei black ospiti, realizza e manda Rocca avanti di 10-36-26. Il quarto poi non riserva altre emozioni notevoli e si va all'intervallo sul 38-26. Al rientro dall'intervallo lungo, il match è ancora più combattuto e agonisticamente avvincente. Kurti accoccia di tre punti e si porta sul 39-30. Il roster di casa a questo punto inizia a crederci sempre più seriamente e, complice un tecnico di Capitano Napolitano, accorcia ancora e va a meno 6. Terzo quarto non giocato affatto nel migliore dei mori da Rocca, ma tutto sommato riesce a reggere l'urto, lasciando Kurti sempre a meno 6, con cui si va all'ultimo quarto, sul 44-38. Nell'ultimo quarto, Kurti alza i ritmi, Rocca va in difficoltà e conduce con un misero più 2. A 6 minuti dal termine, i tentativi sempre più frequenti di Kurti vanno a buon fine. Due tiri liberi regalano la parità e grigi di casa. Rocca in questo momento è in netta difficoltà, solo 6 punti realizzati in oltre 15 minuti. Kurti spinge ulteriormente sull'acceleratore e passa a condurre 51-44. A questo punto si fa molto dura per Rocca, che non riesce più a riprenderla, e termina con il punteggio finale di 51-45. Sconfitta che deve far riflettere Rocca Rainola, che per motivi fisici e mentali ha lasciato andare una partita che si poteva vincere. Non resta ora che rialzare la testa a partire dalla prossima partita in casa contro Ercolano. Dopo la partita, ecco le parole del capitano Felice Napolitano. Sì, è vero, la partita contro Kurti ci lascia molto con la bocca, perché noi eravamo comunque in poca, c'erano molti assenti, però è stata una partita molto dura e noi l'abbiamo giocata a viso aperto. Infatti dopo due quarti eravamo in vantaggio. Poi la stanchezza, ci siamo disuniti un pochino tutti quanti e alla fine abbiamo perso. E poi non bisogna dimenticare che comunque non bisogna fare 7 punti negli ultimi 15 minuti, perché così comunque non si vince. Però siamo una squadra unita e ripartiremo immediatamente. Infatti domenica abbiamo Ercolano in casa e sicuramente lavorando insieme al nostro coach cercheremo di uscircene settimana prossima e vincere contro Ercolano.